ciao cotonello quando sei bello questo gattino ancora a disposizione sto valutando di tenerlo meno perché sei veramente molto affezionato a me occhi azzurri candido bianco con queste sfumature anche beige ricerca tutte le mattine cotonello qua e vieni cotonello vieni e adesso ci dice diciamo che lo posso dare entro domeniche ecco ancora due tre giorni con la madre cotonello un maschietto ecco A presto!